Musica Legge su Ibla, la commissione bilancio approva il finanziamento, si attende adesso il voto all'Ars. Legge su Ibla, se ne discute in consiglio a Ragusa, i soldi utilizzati come salvadanaio? Vittoria, la piscina Terranova rischia la chiusura, una storia lunga 26 anni potrebbe essere al capolinea. Comiso, lo scalo casmeneo è stato inserito nell'elenco degli aeroporti di servizio ed arrivano le prime reazioni dal mondo politico. Un cordiale benvenuto ai nostri telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura parliamo della legge su Ibla. È arrivata la notizia che a Palermo la commissione bilancio ha approvato la legge finanziaria che comprende il rifinanziamento, anche se ridotto a 750 mila euro. Adesso si attende che l'Assemblea approvi definitivamente la legge. Sentiamo. La legge su Ibla potrebbe essere salva. Ne dà notizia l'onorevole Innocenzo Leontini. Ieri la commissione bilancio all'Arse ha approvato la finanziaria che comprende il rifinanziamento della legge 61-81. Per i festeggiamenti però bisogna attendere che il testo venga approvato dall'Assemblea, dunque l'attenzione deve restare alta. L'aspetto poco confortante riguarda tuttavia le somme previste dalla legge. La portata economica è stata infatti ridotta dai 4 milioni e 750 mila euro a 4 milioni. Dunque 750 mila euro e meno, una riduzione non da poco, le cui ragioni sono state ampiamente anticipate già durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri a Ragusa. In apertura dei lavori, infatti, diversi consiglieri hanno commentato le notizie fino ad allora disponibili che non facevano certamente sperare nulla di buono. Tra chi attribuiva la colpa del mancato inserimento della legge nella bozza di bilancio ai deputati regionali di maggioranza e allo stesso sindaco di Pasquale, come il consigliere Martorana, che ha dichiarato «A Palermo non contiamo più niente perché a livello locale non contiamo nulla». Il sindaco di Pasquale pensa di giocare da solo una partita che non può vincere. È riferimento al fatto che il primo cittadino ragusano non ha al momento una chiara appartenenza politica che alla regione possa adeguatamente difendere gli interessi della città di Ragusa. Ha spiccato la posizione del segretario cittadino del PD, Peppe Calabrese. Il segretario, infatti, liquidando come propaganda politica gli interessamenti di Leontini e di Di Pasquale, ha dichiarato «A Palermo sanno l'uso che facciamo di questa legge, da cui l'amministrazione attinge per pagare i debiti fuori bilancio, per cui rischiamo seriamente che la legge non venga rifinanziata». La riduzione del finanziamento potrebbe essere dunque imputata a questa abitudine della maggioranza a Palazzo dell'Aquila. Certo è che la notizia di un inserimento della legge nella finanziaria arriva per il rotto della cuffia. Entro il 22 maggio, infatti, deve essere approvato il piano particolareggiato, che in caso di mancata conferma della legge su Ibla sarebbe stato certamente uno strumento monche o un'occasione mancata per il recupero e il mantenimento del centro storico. In Consiglio Comunale si è fatto inoltre accenno alla riunione prevista lunedì prossimo tra i capigruppo consigliari e i deputati regionali per discutere della vicenda, anche se si attendono conferme ufficiali, soprattutto dopo la novità di stanotte. Nel frattempo c'è da aspettarselo la notizia del rifinanziamento scatenerà l'ennesima carelle tra i partiti sui meriti della vicenda, spostando l'attenzione su chi è intervenuto, con quanta celerità e con quali mezzi, trascurando invece il fatto più preoccupante, e cioè la riduzione progressiva dei fondi che rischiano di essere ridotti all'osso a discapito del centro storico ebleo. E ieri al Consiglio Comunale di Ragusa si è discusso tra i vari argomenti anche della sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Ragusa che impone al Comune il pagamento di 290 mila euro alla ditta Ranieri, una cifra che sarà pagata ricorrendo proprio alla legge su Ibla che a guardar bene sembra proprio un salvadanaio. Sentiamo. Seduta a ordinare a ieri pomeriggio del Consiglio Comunale a Palazzo dell'Aquila, 26 consiglieri presenti all'avvio dei lavori, 23 alla conclusione. All'ordine del giorno l'ordinanza 1854 del 2011 del Tribunale di Ragusa che impone al Comune il pagamento di 290 mila euro alla ditta Ranieri. La discussione in aula è stata accesa e partecipata, diversi infatti gli interventi dei consiglieri presenti su un argomento da molti definito come scottante. La vicenda è complessa e coinvolge due società, la OICOS SRL e la ditta già citata. La OICOS in particolare aveva vinto una gara d'appalto per la realizzazione di lavori da effettuare in via 25 aprile a Ibla. Questi lavori, del costo di 1 milione e 140 mila euro circa, sono stati regolarmente pagati dal Comune di Ragusa. Dopo qualche tempo però al Comune è arrivata un'ingiunzione di pagamento a favore della ditta Ranieri, sconosciuta nel capoluogo, che vantava un credito di 290 mila euro nei confronti della ditta OICOS, la quale risultava in adempiente. Pertanto la ditta Ranieri si è rivalza sul Comune di Ragusa. Essendo una sentenza esecutiva, per le casse comunali si tratta di un debito fuori bilancio, la cui legittimità e il civico consesso è stato chiamato appunto a riconoscere ieri. Diversi sono stati i punti criticati, a partire dalla legittimità dell'atto, ma l'aspetto che più preoccupa è che emerge con chiarezza, sottolineato da diversi consiglieri di opposizione, Lauretta, Calabrese, Tumino e Massari del PD e Martorana di Italia dei Valori e un altro, l'uso della legge su Ibla come salva Danaio. L'amministrazione di Pasquale infatti più volte avrebbe ricorso la legge su Ibla in modo particolare ai soldi stanziati per la circonvallazione San Leonardo a Ibla per pagare debiti fuori bilancio. È già accaduto per il Teatro Concordia con oltre un milione di euro, per Palazzo Cosentini con 123 mila euro e ora con le 290 mila euro da dare alla ditta a Ranieri. Un vizietto, come lo ha definito il consigliere Martorana, che alla regione potrebbe costare caro. La soluzione sarebbe stata la rateizzazione, ma non si sa perché questa strada non è stata percorsa. Molti consiglieri che ieri hanno chiesto di vederci chiaro, si pensa infatti che qualcuno abbia delle responsabilità o abbia commesso qualche negligenza che al comune è costata 290 mila euro. Un costo che molti hanno evidenziato si aggiunge a quello già pagato per la realizzazione dei lavori. Al momento della votazione i consiglieri di opposizione presenti hanno lasciato l'aula. L'ordine del giorno è stato approvato dunque con 18 voti favorevoli. E passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri della stazione di Scoglitti hanno denunciato in stato di libertà il proprietario di un bar della frazione per tentata a truffa e simulazione di reato. L'uomo, alla fine dello scorso anno, aveva denunciato un furto di circa 30 mila euro ai danni del suo bar. Sentiamo. Tentata truffa e simulazione di reato di questo dovrà rispondere il proprietario di un bar di Scoglitti pregiudicato, deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Ragusa dai carabinieri della stazione di Scoglitti. Le indagini sono state avviate dai militari dell'arma a seguito di una denuncia di furto presentata dallo stesso proprietario alla fine dello scorso anno. In quell'occasione, secondo quanto denunciato, ignoti dopo aver scardinato il cancello e la porta di ingresso del magazzino del bar avrebbero asportato merce, sia genere alimentari che bevande, per un valore complessivo di circa 30 mila euro. Successivamente, il proprietario aveva avviato le pratiche per la richiesta del risarcimento alla propria agenzia assicurativa. L'attività investigativa, portata avanti dai carabinieri di Scoglitti, ha permesso di appurare, però, delle importanti incongruenze tra quanto denunciato e quanto invece riscontrato, sia dalle testimonianze dei soggetti informati sui fatti, sia dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza acquisite successivamente al presunto reato, anche in relazione al tempo stimabile per asportare la merce per quella quantità. Il proprietario del bar è stato quindi deferito in stato di libertà per tentata truffa e simulazione di reato. Non è la prima volta che si verifica un tale tentativo di truffa nei confronti delle assicurazioni, simulando reati contro il patrimonio di diverso tipo. Prosegue l'attività dei controlli della Guardia di Finanza contro la mancata emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale. Nell'ambito dei controlli è stato emanato il provvedimento di chiusura di una pescheria di Ragusa per tre giorni. Sentiamo. Apposti i sigili dalla Guardia di Finanza ad un rinomato esercente al dettaglio di prodotti ittici a Ragusa. L'attività della compagnia indirizzata al contrasto delle irregolarità in materia di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale ha consentito l'esecuzione del provvedimento di chiusura dell'esercizio commerciale per tre giorni. Il provvedimento è stato emesso dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo a seguito di quattro distinte mancate emissioni dello scontrino fiscale negli ultimi cinque anni accertate dai militari della Guardia di Finanza nel corso dell'attività di controllo. La sospensione è stata operata in applicazione dell'articolo 12,2 del decreto legislativo 471 del 97 che prevede la chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo da un minimo di tre giorni fino a un massimo di un mese. Dall'inizio dell'anno la Guardia di Finanza di Ragusa ha eseguito nei confronti di tutte le categorie economiche 584 controlli tesi a verificare la regolare emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale. Di questi, 232 hanno dato luogo alla rilevazione di infrazioni. Inoltre, dal 1 gennaio sono già stati segnalati per l'emissione del provvedimento di chiusura dell'esercizio ben 31 esercizi commerciali che si sono resi responsabili di almeno quattro mancate emissioni negli ultimi cinque anni. La Guardia di Finanza intensificherà ulteriormente i controlli anche in virtù delle numerose segnalazioni pervenute per tutelare gli interessi dello Stato e dei commercianti rispettosi delle regole. E ci spostiamo adesso a Comiso dove un'anziana 73enne è stata aggredita da un finto venditore di vestiti. La donna si trova attualmente ricoverata al nosocomio casmeneo. Sentiamo. Episodio brutale ai danni di un'anziana di Comiso una donna di 73 anni è stata aggredita da un uomo mentre si trovava sull'uscio di casa nella zona di Via Veneto. L'aggressore ha avvicinato l'anziana con la scusante di venderle dei capi di abbigliamento. Da una prima ricostruzione pare che la donna si sia dimostrata disinteressata. Così l'uomo l'ha spinta dentro l'abitazione azionando uno spray che l'ha fatta svenire. L'aggressore ha preso qualche decina di euro che si trovavano a vista ed è fuggito via. Solo dopo un po' di tempo la donna ha ripreso i sensi ed è riuscita a bussare alla porta di un vicino. L'anziana è stata poi trasferita presso l'ospedale Regina Margherita di Comiso dove ancora adesso si trova ricoverata per problemi alla gola mentre in mattinata è stata trasportata presso i guzzardi di Vittoria per degli accertamenti. Nel caso si stanno occupando gli agenti della quale è commissariato di polizia che hanno provato ad interrogare la 73enne ancora molto scosta e turbata dall'aggressione subita. Nei giorni scorsi il gruppo Interforce della prefettura di Ragusa coordinato dal dirigente dell'area ordine e sicurezza pubblica della prefettura ha effettuato due accessi ispettivi sulla base di altrettanti decreti emessi dal prefetto di Ragusa a seguito di specifiche richieste avanzate dal centro operativo della DIA di Catania volti alla verifica di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata sul territorio. L'attività ha riguardato l'autoporto di Vittoria e le imprese che operano in tale ambiente nel corso del quale è stato effettuato il sequestro di due cave di gaia e sabbia e di tre mezzi d'opera speciali utilizzati per la movimentazione del terreno e sono state rilevate numerose violazioni in materia ambientale. Nel corso delle operazioni sono state identificate le maestranze e i numerosi mezzi. E cambiamo argomento. L'attività inaugurata nel 1994 oggi è a rischio chiusura la piscina Nannino Terranova a Vittoria che negli anni ha portato avanti numerose attività e creato anche una squadra i cui risultati sono noti a tutti anche perché è stata proprio la squadra di Luca Marin. Sentiamo. Una storia lunga 26 anni che sta per naufragare. La piscina Nannino Terranova infatti è a rischio di chiusura definitiva. Ormai da un mese per un guasto alla caldaia non è più agibile e il passaggio del ciclone Atos ha distrutto la copertura del tetto. Una piscina che ha fatto la storia dello sport a Vittoria dando i Natali sportivi al nuotatore vittoriese Luca Marin. Un'avventura iniziata nel 1986 quando la cooperativa Nannino Terranova ha ottenuto il finanziamento per la costruzione di un centro sportivo polivalente inaugurato nel 1994. I costi sostenuti per consentire l'avviamento delle attività del centro sono risultati superiori rispetto alla somma finanziata. Pertanto la cooperativa si è dovuta assumere ulteriori impegni di spesa non previsti come ha raccontato Tonino Siciliano presidente dell'Ananino Terranova dal 1999 al 2007. L'impianto è stato realizzato con la legge allora l'impletta dell'area giovanile nel 37 che dava questi fondi per realizzare degli impianti sportivi o altro. I finanziamenti ottenuti già subito dall'inizio non potevano essere sufficienti per realizzare l'opera infatti mi ricordo che allora la commissione di vigilanza ci aveva chiesto la seconda scala di sicurezza tante altre cosucce da fare che insomma avevano parecchi soldi di cui la cooperativa ha dovuto sborsare ulteriormente altri fondi delle proprie casse che si sono aggiunte al finanziamento ottenuto. Nonostante le evidenti difficoltà finanziarie la società ha avviato le proprie attività permettendo anche la creazione di posti di lavoro per i soci attività quali nuoto libero corsi di acquaticità per le gestanti nuoto per portatori di handicap corsi mattutini per gli alunni delle scuole elementari e medie lezioni di idrochinesi ginastica in acqua e corsi di ginastica in palestra. All'interno della piscina è nata anche una squadra che ha nel corso degli anni raggiunto risultati importanti con un settore giovanile che ha contato oltre 200 iscritti. Il risultato più bello e sostanziale che potevamo vedere quotidianamente è la presenza di bambini, adulti, adolescenti che si prestavano ad imparare quell'arte natatoria di cultura dei nostri ragazzi. Certo, poi partecipanti a varie campionate a vari trofei i risultati venivano fuori poi con quando ci siamo conosciuti con John Isciti il tecnico che ha portato al lustro Luca Marin nel 1993 mi ricordo già da subito abbiamo capito che avevamo a che fare con un tecnico di spessore molto elevato Luca Marin e tanti altri come Tanania Vincenzo Vacalluzzo Danilo che è poi diventato un campione europeo in un'altra disciplina sportiva Salvatore Sortino Garofalo Giovanni Negli anni sono state coinvolte centinaia di persone tra atleti, dirigenti, tecnici senza considerare le famiglie che hanno seguito con passione la pratica agonistica dei propri figli frequentando giornalmente il centro una storia che oggi rischia di annegare se non si troverà una soluzione per mantenere in vita la piscina Nannino Terranova Nel passato abbiamo provato un po' a chiarire a capire come si potesse fare eccetera so che l'amministrazione comunale sta cercando di stringere un po' i tempi per vedere una soluzione subito ci vorrebbe un tavolo una conferenza di servizio non so tecnicamente come chiamarlo per vedere così le parti interessate per capire come intervenire subito con la regione perché la proprietaria non dimentichiamo che è la regione siciliana che ha dato i finanziamenti e quindi intervenire in modo tale che non rimanca così per oltre altro tempo perché poi il vandalismo prende il sopravvento e per cercare di salvare la piscina Nannino Terranova si sta iniziando a muovere da più parti il mondo della politica già da qualche tempo il comune di Vittoria ha preso parte ad incontri alla regione e anche la provincia oggi ha dato la propria disponibilità una struttura che per la sua storia e per il suo valore deve essere salvata sentiamo inizia a crescere l'interesse per cercare di salvare la piscina Nannino Terranova all'amministrazione comunale vittoriese e fin da subito ha dato la propria disponibilità per cercare una soluzione e ieri l'esperto allo sport Fabio Prelati si è recato a Palermo dove ha incontrato il commissario regionale dell'IRCAC Antonio Carullo per cercare una soluzione alla grave crisi economica e strutturale della piscina sebbene la struttura non sia di proprietà del comune afferma Prelati siamo impegnati con tutte le nostre forze per salvare l'impianto sportivo l'incontro di ieri segue quello della settimana scorsa con l'assessore regionale allo sviluppo economico Marco Venturi aspettiamo adesso la convocazione da parte di quest'ultimo di una già concordata conferenza di servizio alla quale giungeremo forti delle nostre proposte e della nostra determinazione a non disperdere quel patrimonio sportivo e sociale rappresentato dalla piscina Terranova anche la provincia attraverso l'assessore allo sport Momo Carpentieri ha dato la propria disponibilità per ottenere il salvataggio della struttura e proprio per questo il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia ha annunciato di voler organizzare un incontro nei locali della piscina anche dal CONI intervengono sulla questione annunciando la convocazione di una conferenza dei servizi per cercare di risolvere il problema tanti gli incontri in programma quindi con la speranza mantenendo alta l'attenzione sulla vicenda di poter rimettere in sesto la nannino Terranova e si chiude qui la prima parte del nostro TG ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria a tra poco